Ci troviamo qui con Davide Sbrogio, interprete di Quinziano. Qual è la parte che le piace di più del ruolo che interpreta? Posso dire che mi piace interamente il personaggio perché mi proietta all'interno di una dimensione storica che è quella romana, lui è un proconsole romano e agisce tra il 259 e il 261 d.C. Certo è un personaggio negativo che io ovviamente non posso stimare per carità, però è uno di quei rudi e arroganti personaggi che ci riconducono a un'epoca passata pagana che non tollera appunto che una ragazza così giovane come Agatha possa disubilire ai suoi ordini. Eppure essendo un personaggio estremamente granitico, tuttavia secondo me, ripeto, nella sua negatività ha anche un suo fascino e una sua forza. Da cosa nasce la sua passione per il teatro? Ma da cosa nasce? Casualmente a 16 anni, frequentando il liceo classico, incontrai la mia professoressa di greco, era una grande appassionata di teatro e mi catapultò in una giornata dedicata alle scuole, in uno spettacolo al teatro greco di Siriacusa. E da allora ho capito che al di là di tutto c'era anche nella mia vita l'arte e questa passione meravigliosa per quest'arte straordinaria. Grazie mille. 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 Grazie a tutti